Venerdì 12 marzo, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando dalla nostra pagina ufficiale Facebook, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi Nal Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Grepas vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Piediamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in questa prima pagina, ecco come si apre l'edizione di oggi del quotidiano Il Corriere delle Alpi, bloccato lotto di vaccini a scopo precauzionale. Coronavirus sospetti su una fornitura AstraZeneca in tutta Italia. L'iniziativa dell'AIFA dopo tre decessi in Sicilia e in Veneto somministrate 17 mila dosi, anche nel bellunese non sono state riscontrate reazioni anomale messe in guardia alla rete dei medici di base. L'approfondimento di Tosatto a pagina 5. Il piano Belluno accelera sulla campagna, nel weekend classi 38, 39 e 40. Tutti i tamponi positivi mandati a sequenziare presentano la variante inglese, l'approfondimento di Dallanese a pagina 8. Oggi Consiglio dei Ministri, Nuova Stretta, Zaia, il Presidente della Regione Veneto. Anche noi siamo a rischio di zona rossa. Oggi la nuova riclassificazione delle zone di rischio, il Veneto in bilico fra arancione e rosso. E ancora a Belluno, il virus rapisce Don Utenberg, penitenziere del Duomo. L'annuncio della diocesi fatale, gli esiti del Covid-19 fu una calonna portante del seminario. L'approfondimento a pagina 11. L'ongarone, la pandemia pesa su Saffilo, a Ormoz chiuderemo. Il 2020 si è concluso con il fatturato in caldo, il mercato europeo è in sofferenza, ma crescono le vendite sul canale online. Belluno ha gara rifiuti, gas e trasporti, tempi stretti e incognite. È l'anno delle gare pubbliche per i servizi, ma gli affidamenti sono ancora in alto mare a causa di iter complessi. E valutazioni, l'approfondimento di Aliprandi a pagina 21. E ancora igne, fumo e fiamme nella palazzina, notte fuori per le famiglie. L'incendio è partito nel primo pomeriggio, distrutta una parte del tetto. Al lavoro una quindicina di vigili del fuoco, danni molto ingenti. L'approfondimento di Sosso a pagina 29. E la foto di copertina è dedicata a settine raccolta di firme. Ideal si appella al governo. All'Ideal Standard di Tricchiana la pazienza dei lavoratori è finita. Ieri c'è stato un settine nel piazzale esterno della fabbrica ed è partita una raccolta firma. L'approfondimento di Dallanese a pagina 30. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Ed entriamoci al suo interno con pagina 2. È il record di contagi, due italiani su tre verso il rosso. Da lunedì 12, regioni su 20 avranno regole più dure. Oggi il vertice tra governo e denti locali poi parlerà Draghi. Questi i numeri italiani. 25.673 i contagi registrati. Ieri è il dato più alto dal 28 novembre dell'anno scorso. 373 i morti nelle ultime 24 ore. Mercoledì erano stati 332. 6,9% al tasso di positività. Sale di più 0,7% in 24 ore come registra il bollettino emesso. Quota 250 contagi ogni 100.000 abitanti. È la nuova soglia per finire in lockdown. Ed ecco la mappa che rappresenta l'Italia. Come dovrebbero cambiare i colori dell'Italia. Rosso la provincia autonoma di Bolzano. La regione Campania. La regione Abruzzo. Rimarranno arancioni in teoria la Toscana, l'Umbria e la Puglia. Gialle Sicilia, Basilicata. La Sardegna continua a rimanere zona bianca. E le altre regioni tra cui appunto anche il Veneto. Dovrebbe, potrebbe passare da zona arancione a zona rossa. Si vedrà l'evolversi nelle prossime ore. Attualmente il valore di RT, l'indice di contagio in Veneto, è tra l'1 e l'1,25. La stretta di Pasqua. Ecco le misure in vigore fino al 6 aprile prossimo. Regole più rigide per le fasce gialle e arancioni. Evitare i contatti. L'approfondimento a cura di Paolo Russo. Scuola, istituti chiusi nelle zone a rischio. Regioni gialle superiori in DAD. Weekend in arancione si sta nel comune seconde case. Stop a quelle presenti fuori dalla propria regione. Festività pasquali a tavola solo con i congiunti. Si torna al lockdown duro. Quattro spostamenti. C'è l'ipotesi di un'ultima stretta. Vietare le visite ad amici e parenti. Cinque cultura e svago per cinema e teatri. L'incertezza. Se riaprirli si decide il 20 marzo. Bar, ristoranti e negozi. Garantite le attività essenziali. Ristorazione costretta al delivery. Pagina 4. AstraZeneca. L'AIFA ritira un lotto. Draghi, evitare panico sui vaccini. Telefonata con von der Leyen. Nessun annesso con le trombosi. In Danimarca e Islanda scatta lo stop. Chi ha stoppato AstraZeneca? La sua amministrazione del vaccino è sospesa per effetti collaterali. Le autorità nazionali hanno imposto la sospensione temporanea dopo alcuni casi di coagulazione del sangue. Queste le caratteristiche del vaccino AstraZeneca. Due dosi. La distanza dalla prima alla seconda dose è di 28 giorni. Tipo di virus inattivato. Conservazione tra i due e gli otto gradi. L'efficacia è al 62%. La sospensione di tutti i vaccini AstraZeneca è avvenuta in Norvegia, in Islanda e in Danimarca. ha ritirato solo i lotti di dosi finiti nel mirino, in questo caso in Italia, in Austria, in Lituania, Lettonia, Estonia e Lussemburgo. Ma parliamo di Veneto. Iniettate nel Veneto 17 mila dosi provenienti dall'otto Astra Sospetto. La direttrice della prevenzione russo. Finora il monitoraggio esclude reazioni avverse di rilievo. Tutto questo per quanto riguarda il Veneto, che comunque blocca la distribuzione. E il punto vaccinato al 38% del personale della scuola. Questa è una notizia che riguarda sempre la regione Veneto. Ma a proposito di rischio sanitario, protocollo per le vaccinazioni in azienda, Zaia, Veneto in milico tra arancio e rosso, l'industria, il commercio, il turismo, l'agricoltura. Saranno le associazioni di impresa a raccogliere le adesioni nei luoghi di lavoro. I tassi di incidenza a casi Covid per distritto. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la provincia di Belluno. Distretti con scuole chiuse e distretti con oltre 200 casi per 100 mila abitanti. Belluno è un distretto con scuole chiuse. I casi registrati sono stati 331. Popolazione 2020. Fonte Istat precensimento permanente 119.911. Incidenza nell'ultima settimana per 100 mila abitanti 276,04. Il distretto di Feltri, i casi sono 105 con una popolazione pari a 82 mila 0,61. L'incidenza ultima della settimana è pari a 127,85. E in questo grafico, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'andamento dei ricoveri nelle terapie intensive del Veneto, vediamo che il picco è stato il 31-12-2020 alle ore 11 con 401 ricoveri. Vediamo che il picco più basso è stato registrato tra la settimana, tra il mese di febbraio e il mese di marzo, ma vediamo che a marzo, o meglio l'11 marzo 2021 alle ore 10, vediamo un'ulteriore crescita, 153 i ricoveri pari a 9 ricoveri in un solo giorno. Questo per quanto riguarda il Veneto. Pagina 7. Maratona con accordo al fotofinish la regione a ruole i medici di base. Firmata l'intesa, coinvolti nella campagna vaccinale a domicilio, negli ambulatori o in strutture terze. Il via dai pazienti domiciliari viene riconosciuta anche una somma per il lavoro organizzativo. E questo è il bollettino che riguarda il Veneto. Positivi, nuovo picco giornaliero, 171 i pazienti in terapia intensiva. Notizia che riguarda appunto il Veneto. Passiamo alla provincia di Belluno con la pandemia. Pagina 8. Nel fine settimana dosi ai nati dal 37 al 40, l'impegno sui centenari entro il 22 marzo. Tutti i tamponi positivi mandati a sequenziare presentano la variante inglese. Gli infetti in provincia sono ormai 1024. Questa è l'agenda dell'Urs numero 1. Dolomiti domani saranno vaccinati i nati nel 38 e nel 39 a Belluno, Feltre, Taie e Agordo. Queste le zone in cui verranno fatti i vaccini. Domenica i nati nel 40 a Belluno e a Feltre. Lunedì i nati nel 40 a Taie. E martedì i nati nel 40 a Nagordo. Ovviamente parliamo delle zone in cui saranno attivi i presidi per fare la vaccinazione. Lutto per quanto riguarda la diocesi di Belluno e Feltre. Colpito dal virus addio a Don Utenberg. L'annuncio della diocesi fatali. Gli esiti delle Covid-19 in seminario ha insegnato a una generazione di preti bellunesi. La comunità bellunese è in lutto. Si è spento ieri all'ospedale San Martino dove era ricoverato da alcuni giorni Don Giovanni Utenberg per decenni insegnante al seminario cittadino e formatore di molti sacerdoti bellunesi. Li sono stati fatali gli esiti del Covid-19 da cui era stato colpito. Ha sottolineato la diocesi di Belluno e Feltre dando l'annuncio della scomparsa del sacerdote di origine cadorina. Don Utenberg era nato infatti a Tai di Cadore il 9 gennaio 1943 da Luigi e Maria Rizzo. Ordinato presbitero il 28 giugno del 66 aveva impegnato i primi anni del suo sacerdozio a Roma ottenendo la licenza in Universa Teologia alla Pontificio Università Lateranense e poi la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Basta messe in streaming sul web. Marangoni detta le regole per Pasqua. La chiesa bellunese cerca di conciliare il timore di una terza ondata con la necessità di favorire la partecipazione dal vivo. Domenica delle Palme con i rami di ulivo portati da casa o consegnati uno a uno. Questa è la decisione del Vescovo di Belluno, Feltre. Parliamo ovviamente della diocesi. Pagina 10, sempre da Belluno, sit-in dei baristi, ristori subito o riaperture. Belluno, alcuni titolari di esercizi pubblici o di partite IVA ieri mattina hanno rallentato il traffico alla rotatoria di Nogaret. Massimo Bortoluzzi di Veneto Imprese Unite. Basta, ci stanno uccidendo. L'imprenditore del turismo, del fitness, della ristorazione, dei pubblici esercizi dicono basta le chiusure che stanno mettendo in ginocchio le attività o lo fanno scendendo in strada da qualcuno in scatti della manifestazione che si è svolta nella giornata di ieri. Chi è l'associazione del lockdown? È nata a settembre 2020 in seguito ai lockdown causati dalla pandemia da Covid-19. Veneto Imprese Unite è l'associazione che riunisce imprenditori del turismo, dei pubblici esercizi ma anche delle partite IVA che chiedono ora un aiuto a sopravvivere. Persi 130.000 euro di fatturato e ho licenziato sette dipendenti. Uno dei due soci della trattoria, casa e cesa di Limana, è deluso. Non ho i soldi per pagare l'affitto di casa mia. Siamo umiliati. Impiantisti tornano alla carica. Ripagateci la stagione persa. Atteso al VAR col decreto di Draghi. Almeno confermino i 400 milioni di euro. Pagina 12. Minacce di morte e insulti. Mattarella sotto attacco. Pesanti offese via Twitter da diverse città. Dieci persone indagate in tutta Italia. Si ipotizza una rete anti-istituzionale. Nel Merino anche Conte, Monti e Fornero. L'emergenza lavoro. Pagina 14. Primo sciopero della filiera di Amazon. Autisti e operai. Protesta unitaria. Più soldi in busta e diritti. Contro la multinazionale. Porteremo la vertenza dell'UE. I numeri in Italia di Amazon. 5,8 miliardi l'investimento. Oltre 40 sedi. 9.500 dipendenti a tempo indeterminato. 15.000 le persone impegnate nelle consegne. 2.600 assunzioni nel 2020. Questi sono gli stipendi in Italia. Euro al mese secondo le fonti sindacali. Dipendenti dei centri di logistica. 1.000-1.200 euro. Driver 1.500-1.700 euro. I risultati nel 2020 a livello globale. vendite nette 386,1 miliardi di dollari con un aumento del 38% rispetto al 2019. Utile netto 21,3 miliardi di dollari con un aumento di 9,7 miliardi rispetto al 2019. Condannato per reati di mafia perde l'assegno di invalidità. L'Inpsa ha revocato la prestazione al pentito. Il Tribunale di Rovigo l'ha ripristinata. Ora la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di investire nel caso, scusate, la consulta. Notizia di spalle. Bacciga è legato all'ultradestra veronese. Ha chiesto di aderire al gruppo consigliare. Passa alla Lega il consigliere del saluto romano. Draghi coinvolga le regioni su ambiente svolta digitale. L'assessore Calzavara, il modello Open Fiber non funziona. Bisogna decentrare. Abbiamo chiesto 3 miliardi per il dissesto idrogeologico. Vera emergenza Veneta. E adesso una notizia che riguarda invece l'azienda Safilo. Azienda belunese, la pandemia pesa sui conti. Chiudiamo la fabbrica di Ormoz. Il 2020 con il fatturato in calo. Mercato europeo in sofferenza, ma crescono le vendite sul canale online. Safilo archivia il 2020 con numeri che risentono della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Anche se negli ultimi mesi registra un rimbalzo che fa ben sperare per l'anno. Il fatturato è sceso del 15,2% a cambi costanti e del 16,9% a cambi correnti rispetto al 2019. Attestandosi a quota 780,3 milioni di euro. La flessione è dovuta all'andamento del primo semestre. Mentre a partire dall'estate la situazione è andata migliorando. con il secondo semestre che ha visto salire le vendite del 4,5% a cambi costanti e dello 0,4% a cambi correnti. Il futuro dei territori ripresa al 2021 da solo non basterà da due a quattro anni per rinascere. Il rapporto della fondazione nord-est PIL 2020 ha meno 9,3. Rimbalzo 2021 ha più 5,6 ma l'export crolla al turismo. Tra i settori l'abbigliamento è il peggiore e si salva l'alimentare. Questo quindi l'approfondimento della fondazione nord-est che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Le vendite all'estero ancora importanti ma affiancate dagli investimenti diretti. Siamo a pagina 21. Notizie prettamente dedicate al territorio bellunese. Servizi pubblici 2021 è l'anno delle gare ma gli affidamenti sono ancora in alto mare. Tra contenziosi e rinvii gli obiettivi potrebbero non essere centrati. Intercomplessi e valutazioni tecnico-economiche allungano i tempi. Belluno, pagina 23. Due gallerie per i laghi di Alleghe e Santa Croce. il recovery plan per la difesa idraulica. Ad Alleghe è previsto un doppio tunnel, un canale scolmatore, un bypass per le auto nella strettora del centro del paese. Il collegamento del lago Alpagoto con il Piave sarà utile per scaricare le portate eccezionali di piena. E ancora ufficio in affanno. Sindacati dal prefetto. Previsti 20 dipendenti ma ne sono rimasti soltanto 6. La RSU così non va. Dateci personale o chiudeteci. Questa l'appello lanciato dall'ex provveditorato di Belluno. Fatti di cronaca giudiziaria. Calunnia al consigliere e vigile urbano indagato. Il fatto è accaduto nel capoluogo. Furto aggravato. Uno scambio di scarpe le costa il processo. Non doversi procedere. Trovò un telefonino. È prosciolto per furto. Pagina 25. Viabilità. Piano delle manutenzioni. Le emergenze impongono un taglio netto alle opere. La provincia aveva stilato un elenco a novembre per il 2021 con 8 interventi. I costi del maltempo li riducono a 4. Pagina 26. Feltre alimentari alle famiglie. Nuova sede per la mensa. All'associazione 10.000 euro dalla Caritas. Altre 30.000 euro in arrivo dalla regione. Cipolat. Prima l'emergenza legata alla crisi. Ma pensiamo all'ex scuola di Farra. Notizia di spalle, accordo per tre anni intesa tra Comune e Conservatorio Pedrollo per un master in musica. Siamo nel Feltrino. Quarovas, schianto mortale sulla Feltrina. L'autista ha patteggiato 28 mesi. L'uomo non era sobro e nell'incidente all'alba aveva perso la vita al passeggero. La patente è sospesa e sarà avviata una causa civile per il risarcimento dei danni. Questa è la BMW 318D dopo lo schianto sulla regionale 348. quello che, ahimè, è rimasto di quest'auto. Cisterna si ribalta nella rotatoria. Una manovra sbagliata. L'autocisterna che sbanda e si ribalta con ricantosi nel gun rail, come si può vedere da questo scatto e perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. La ditta STS specializzata in trasporti sfusi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Notizia che ci porta sempre nel Feltrino alla rotatoria di Anzu. Santa Giustina è aperto il cantiere della pista ciclabile, costegna dell'opera prevista a fine estate. Durante l'estate il tratto più complesso alle gravazze e vigne entreremo in una rete cicloturistica. Importante questa è la dichiarazione dell'assessore al bilancio di Santa Giustina che segue il cantiere della ciclabile. Sempre da Santa Giustina, strada a silvo pastorale di Via Noi e ripristinata con fondi regionali. Pagina 29. Longarone, Igne, brucia una mansarda, danni anche al tetto. Il fuoco è partito dalla canna fumaria e non ha risparmiato nulla. Illesi gli inquilini, rimettere tutto a posto costerà caro. I vigili del fuoco hanno evacuato alcune delle famiglie della palazzina. Longarone, l'iniziativa verrà ripetuta. Tumore al seno, in pochissime ore esauriti 50 appuntamenti gratuiti per lo screening su donne e giovani. Valdizoldo, una Smart TV in dono dalla sezione del CAI, agli ospiti della Santin. Passiamo a pagina 30. Ideala, la pazienza dei lavoratori è finita. Chiediamo al Mise delle risposte chiare. Sittine nel segno della preoccupazione, nel piazzale esterno della fabbrica. Partita ieri è anche una raccolta firme. I sindacalisti all'unisono siamo più che sicuri che c'è un futuro per questa azienda. Sedico, cavalla in fuga d'amore, prende largo da Saletti. I carabinieri forestali la riportano a casa. Nel centro equestre vengono allevati una quarantina di capi, tra di loro anche i futuri destrieri destinati ai corrazzieri. Roccapietro e non è il momento di chiedere i soldi dell'Atari 2016. Protesta il titolare di un bed and breakfast. Non nego che ci siano stati quei mancati pagamenti, scusate, ma non lavoriamo da un anno. L'Unione Montana a Gordina li mandi in prescrizione. Da Livina a Longua, sale sedi sotto, palo spezzato e cavi in bilico. Telecom se ne lava le mani. Siamo a pagina 32. Cortina e in bilico il futuro della chiesa serviranno approfondimenti. Valle di Cadore, dopo il summit tecnico tra gli enti coinvolti, il sindaco Offer vuole essere onesta. Se il problema ha una soluzione, la troveremo, ma potrebbe anche non averla. Notizia di spalle. Cantiero Telampezzo per la Cassazione permesso illegittimo. Le ragioni del sì al ricorso della procura. Siamo a pagina 33. Emma si prende il Nuvolau con l'aiuto di quattro fratelli. La Menardi ha saputo in Cile dove si trova da alcuni mesi di aver vinto il bando di gestione e da Cortina la sorella Margherita assicura in un modo o nell'altro tutti le saremo a fianco. L'obiettivo adesso è aprire per fine aprile, ma prima ci sarà da fare un po' di manutenzione. Ancora Cadore, minaccia i due poliziotti, ero in legione straniera e vi faccio saltare in aria. San Vito, De Silvestro, il comune ne festeggia i successi. Siamo a pagina 34. Cultura e società, il saggio, tutta la musica, nessuna esclusa nell'umanesimo di Maderna. Lo studio di Barone e Dal Monte offre nuove riflessioni su vita e opera del compositore e direttore d'orchestra. Pagina 35. Sport, calcio, serie D. Belluno, Peter le ha scavalcato Danora e lui il guardiano dei pali giallo-blu. Ho saputo aspettare, forte dell'esperienza con il Carini. Aiuta molto il preparatore Be con Stefano. Ottimo rapporto. A Trento si è vista la nostra forza. Pochi in estate ci avrebbero scommesso. Volley C femminile. Domani alle 20.30 arriva il San Sisto. Mares è un limana che pensa al futuro. Parla la schiacciatrice dopo la netta sconfitta con i Feltre, ma l'assenza di retrocessione favorisce la crescita delle giovani. Sporti invernali. Criterium Cuccioli a Cortina annullati i provinciali e il regionale del CSI di Feltre. Europa League. L'andata degli ottavi. Milan infinito all'Old Trafford. Chiaier agguanta la United al 92esimo. Il primo gol del danese in rosso-nero annulla il vantaggio di De Allo, ex Atalanta. Un pari d'oro che rende meno impervio il percorso verso la qualificazione ai quarti. Uno a uno. Il risultato finale. Passiamo alle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. Prima di salutarci. In prevalenza sereno e poco nuvoloso, con probabili foschie e nebbie in pianura. Localmente persistenti fino a parte della mattinata in qualche fondo valle per alpino durante le ore più fredde. Aumento della nuvolosità in serata sulle Dolomiti. Precipitazioni assenti salvo possibili deboli precipitazioni sui settori dolomitici in serata. Venti in quota moderati tesi. In pianura al mattino deboli variabili. Nel corso del pomeriggio rinforzo della ventilazione sulla costa da sud sud-est nell'entroterra deboli di direzione variabile. Mare da mosso o poco mosso. Temperature minime in diminuzione. Massime in calo in montagna. Senza notevoli variazioni in pianura e nelle valli. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a luna ora a Locale Italiana. Vi chiediamo scusa invece per Radio ABM e per lo streaming perché stiamo avendo dei problemi tecnici dovuti a un incendio in una data center che si trova in Francia dove è presente appunto lo streaming di Radio ABM. Da una serie di giorni purtroppo la nostra web radio è offline oggi dovrebbe ripartire al 100% quindi vi chiediamo scusa per questi disagi che comunque non sono dovuti a noi ma continuiamo a trasmettere informazione anche attraverso i canali social di Radio ABM ovvero Facebook e il canale YouTube dell'associazione Bellunesi nel mondo. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM la web radio dell'associazione Bellunesi nel mondo.